Io interverrò quando ci sarà il Governo e soprattutto venerdì, in occasione dell'inizio dell'Assemblea Congressuale del Movimento Politico, Democrazia e Autonomia, illustrerò anche una valutazione forte che abbiamo fatto in questi giorni. Comincia una fase nuova, non solo per il Governo ma anche per altri, siamo molto motivati da una parte a garantire il massimo della cooperazione istituzionale a chi governerà, dall'altro però anche il massimo della costruzione di un'alternativa politica che veramente metta insieme rottura del sistema, rivoluzione e affidabilità di governo.